Ciao a tutti, ringrazio Elia per l'invito che mi ha fatto per fare un piccolo presente a Luis Sepulveda, che considero uno dei più grandi autori dei nostri tempi, uno tra i più poliedrici, mi verrebbe da dire, un artista tutto tondo, un artista che nei suoi romanzi ha trattato tre argomenti in particolare, dal mio punto di vista, tra i quali l'amicizia, la libertà, preciso che lui è stato anche in carcere, viste i suoi trascorsi dal punto di vista politico, è la lentezza, che soprattutto negli ultimi anni ha trattato questo argomento in più occasioni. Io, proprio in relazione alla lentezza, ho scelto dei piccoli passi tratti da storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, che fondamentalmente è una lumaca che fa un viaggio per ricercare il suo nome. In questo viaggio incontra altri due personaggi, tra cui la tartaruga e il gufo, anche loro simbolo nel nostro immaginario della lentezza per il loro modo di essere, di fare e di incedere. «Voglio sapere perché sono così lenta», sussurrò la lumaca. Allora il gufo aprì i suoi enormi occhi rotondi e la osservò attentamente. Poi li richiuse. «Sei lenta perché sulle spalle un grosso peso», spiego il gufo. «Tu sei una giovane lumaca e tutto ciò che hai vissuto, tutto ciò che hai provato, amaro e dolce, pioggia e sole, freddo e note, è dentro di te, è pesa. Ed essendo così piccola, quel peso ti rende lenta. Il peso della nostra vita». Ciao a tutti. Ciao a tutti.